La nuova legge è il frutto dell'accorpamento di tre DDL, a firma dei deputati Margherita La Rocca Ruvolo, Udc, Giancarlo Cancelleri, Movimento 5 Stelle e Antonio Catalfamo, Fratelli d'Italia. Varati l'anno scorso in Commissione Salute e prevede il divieto d'apertura di centri di scommesse, spazi per il gioco, la nuova installazione di apparecchi ad una distanza minima dei luoghi sensibili e quando parliamo di luoghi sensibili intendiamo scuole, parrocchie, caserme, strutture sanitarie, centri di aggregazione per giovani e anziani. Prevista anche l'Istituto dell'Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo al fine di conoscere e monitorarne il fenomeno. L'Osservatorio collaborerà con i competenti organi dello Stato e con le forze di polizia nella lotta al gioco illegale. Le ASP promuoveranno gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo con iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione. I servizi delle dipendenze patologiche delle ASP assicureranno l'attività di accoglienza, la valutazione diagnostica, la presa in carico e la cura, il reinserimento sociale finale. La regione rilascerà cura dei comuni agli esercenti di pubblici servizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che sceglieranno di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, il marchio regionale, slot no grazie. I comuni possono prevedere forme premianti per chi aderisce al progetto, spetterà ai comuni e la competenza dei controlli tramite la polizia locale sui locali.